Dovrebbero funzionare come deterrente contro i malviventi, ma anche come nuovo strumento investigativo. Si tratta di sistemi di videoserveglianza installati fuori dalle attività commerciali di Brindisi, collegati direttamente con gli uffici della Questura e del Comando dei Carabinieri. Firmato il protocollo di intesa alla Prefettura di Brindisi tra il Prefetto Nicola Prete e i rappresentanti delle associazioni di categoria per la Confesarcenti Toni D'Amore e per la Confcommercio Massimiliano Pennetta alla presenza delle Forze dell'Ordine. Al momento circa il 60% delle attività commerciali a Brindisi è fornito da videocamere. Si spera, ha sottolineato Toni D'Amore, che anche con l'aiuto di alcuni finanziamenti del Comune proveniente dal distretto urbano anche gli altri possano munirsi del sistema. Dobbiamo cominciare ad affrontare problemi una alla volta e sciogliere diversi nodi. Sicuramente, se non possiamo intervenire concretamente attualmente su quella che è una crisi internazionale, possiamo sicuramente aumentare il grado di sicurezza della nostra città. Una città che io ritengo comunque tra le più sicure in Italia. Insomma, le telecamere per strada, quelle finanziate dal Ministero dell'Interno, si potrebbero aggiungere quelle delle attività commerciali, finanziate però dai privati. E le Forze dell'Ordine potrebbero così avere un maggiore controllo del territorio, come ha spiegato il prefetto Nicola Prete, telecamere ormai necessarie, dopo visto anche l'utilità avuta con l'attentato alla Morvillo Falcone. Il Pono Sicurezza del Ministero dell'Interno ha finanziato qui a Brindisi e non solo a Brindisi una fitta rete di telecamere collegate con le sale operative della Questura e dell'Arma dei Carabinieri. Una rete di telecamere che, per esempio, recentemente ha contribuito in maniera molto significativa a scoprire l'autore dell'efferato attentato all'Istituto Morvillo Falcone.